Quest'anno Pescara regala un Natale speciale ai suoi residenti. Grazie ad un accordo con il Parco Nazionale Abruzzo Molise verranno distribuiti alberi natalizi anche nei quartieri periferici della città. Una novità richiesta proprio dai cittadini per arredare aree di recente riqualificate. Quest'anno abbiamo deciso di donare, di dare un albero di Natale, una bete ad ogni quartiere, associazione o cittadino che ce ne abbia fatto richiesta. Tutto è partito il 10 novembre con una lettera scritta dai cittadini di Largo Baiocchi al sindaco in cui gli chiedevano appunto se potevano avere un abete di Natale da poter addobbare insieme e da lì ci siamo attivati. Le richieste sono state diverse e quindi abbiamo fatto in modo di recepire un numero di abeti veri ovviamente che ci sono stati donati dal Parco d'Abruzzo grazie alla collaborazione del sindaco di Lecce dei Marsi che oggi stiamo finendo di distribuire in realtà in tutte le sedi di Pescara. Nello specifico saranno posizionati Largo Baiocchi, Borgo Marino Sud, Fontanelle, presso Villa Sabucchi, Lanfas, al Parco dei Risi, Salina Casa e a Piazza San Camillo dell'Ellis. Dal canto suo il Parco nazionale coglie l'occasione per ricordare l'importanza della sensibilizzazione e della responsabilizzazione verso i temi dell'ambiente e della natura. Ma è una richiesta che abbiamo accolto molto favorevolmente anche perché riteniamo che l'esperienza dei parchi vada portata anche fuori dai parchi e questa è un'occasione simpatica, bella, è un'occasione del Natale di poter collegare due territori, la città di Pescara, sul mare, con il Parco storico dell'Abruzzo, il Parco d'Abruzzo-Lazio-Molise. Poi questi alberi non finiranno la loro carriera per il Natale, cosa succederà dopo? Ma questo noi li doniamo al Comune di Pescara, quindi immagino che il Comune di Pescara sceglierà una collocazione adeguata anche per la continuazione della vita di questi alberi.